Il pregiudizio è un'idea preconcetta su qualcosa o qualcuno, è un giudizio prematuro basato su argomenti insufficienti o addirittura sbagliati, cioè ci costruiamo delle categorie per cui tutte le persone che hanno determinati comportamenti o vengono da un certo paese, hanno una determinata colore della pelle, sarebbero ladre, cattive, pericolose, bugiarde, ovviamente si tratta di una generalizzazione, cioè di un errore logico, per cui il pregiudizio fa assumere atteggiamenti assurdi, sbagliati, che portano anche a odiare, a fare violenza su queste persone, ad aggredirle ingiustamente, immaginiamo infiniti episodi della storia, caccia alle streghe, caccia all'untore, persone accusate ingiustamente di fare le peggiori nefandezze, il pregiudizio innanzitutto danneggia chi ce l'ha, perché si privano magari della conoscenza e del sapere di persone che sarebbero molto valide e chiude i gruppi, i gruppi diventano esageratamente uniformi ed è molto difficile liberarsi dal pregiudizio. La cosa più importante quindi è riconoscere di averne.